Ciao ragazzi benvenuti oggi parliamo di Natale e regali di Natale il giorno che stavate aspettando ragazzi è arrivato forse un po troppo no in realtà non è troppo perché mi è arrivato questo pacco qui da Roland e quindi adesso andiamo a scartarlo insieme perché qui dentro ci sono dei regali apposta per voi prendo un taglierino apriamo il pacco e vi spiego come potete vincere e cosa potete vincere soprattutto come fare a fare tutte le cose eccetera eccetera perché è un po diverso dall'ultimo giveaway che ho fatto quindi vi spiego tutto ma vado a prendere un taglierino. Taglierino trovato mi accingo ad aprire il pacco anzi i regali per voi che ho appena scartato fanno parte di due giveaway per quello vi ho detto che è un po particolare quello di oggi perché un giveaway sarà qui su youtube e tra poco vi spiegherò come funziona un giveaway sarà su instagram e tra poco vi spiegherò anche quello come funziona ma la cosa importante quindi è per capire come fare a partecipare di guardare il video fino alla fine perché se no è un po un problema quindi dentro questo pacco per voi che cosa ho trovato ho trovato principalmente due cose ma in realtà non sono solo due perché allora per prima cosa un modulo tm2 fighissimo raga ho già fatto un video in realtà non di questo ma del tm1 io comunque nel dubbio ve lo lascio qui sopra in una scheda non è proprio lo stesso lo stesso prodotto ma le funzioni sono molto simili se volete capire a cosa serve questa centralina guardate comunque il video questo... ma la apro anche se non è mia perché la regalerò a voi io la apro lo stesso e fa niente spero che il vincitore mi perdoni tiro solo fuori la centralina questa qua la tm2 della roland ma roland ha deciso oltre a questo di dare al vincitore della tm2 anche questo trigger qua anche di questi trigger ve ne ho parlato vi lascio la scheda qui e in pratica grazie a questo trigger e a questa... possiamo andare a triggerare il nostro rullante andando quindi a miscelare il suono del nostro rullante acustico al suono elettronico dato da questa centralina oppure possiamo mutare ad esempio con una pelle mesh il nostro rullante mettergli questo trigger e andare a controllare il suono completamente elettronico quindi direttamente da questa centralina qui abbiamo due entrate abbiamo un sacco di suoni possibili quindi è una figata insieme a questa roland tm2 oltre al trigger vengono anche dati questi due cavi qua questo è un cavo midi perché ovviamente la roland tm2 ha anche l'entrata l'uscita e l'entrata midi e questo cavo a y con i due jack da una parte e il jack più piccolino dall'altra l'altro prodotto sono queste cuffie crossfade della vmoda queste cuffie qua della vmoda in realtà sono sempre roland perché è un marchio comunque sempre di roland ve le vado ad aprire anche queste me ne frego che non siano mie io vado ad aprirle lo stesso perché sono super curioso no queste non le posso aprire perché ho tagliato questo ma in realtà ci sarebbe ancora qui un cordino da tagliare quindi non me la sento vediamoli solamente così ma in pratica queste sono delle cuffie wireless molto molto fighe all'interno della confezione troviamo le cuffie ma anche la custodia apposta per queste cuffie queste cuffie wireless sono molto utilizzate per suonare sulla batteria elettronica va benissimo anche per chi suona la batteria acustica perché è perfetta anche per suonare appunto batteria acustica con le basi in cuffia in più però come potete vedere di qua e anche come potete vedere da questa parte il design di queste cuffie veramente molto 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 figo quindi vanno benissimo anche come cuffie normali semplicemente per ascoltare la musica anche perché la qualità audio è veramente alta e hanno una buonissima presenza di basse quindi vi lascio qui sotto il link per andare a dargli un'occhiata ma adesso vorrei spiegarvi come fare a vincere questi prodotti perché come vi dicevo questo giveaway è un pochettino diverso da quello scorso vi ricordate il giveaway scorso ecco questo è diverso il primo giveaway che riguarda questa centralina tm2 insieme a questo trigger roland insieme a questi due cavi che vi ho fatto vedere prima è su youtube per vincere questa tm2 insieme a tutto il resto cosa dovete fare tre cose dovete iscrivervi a questo canale se ancora non siete iscritti dovete mettere mi piace a questo video e dovete commentare queste tre cose commentate con quello che volete anzi facciamo una cosa un pochettino più divertente commentate scrivendo io userei la tm2 per poi scrivete quello che volete però non deve essere per forza una cosa di senso compiuto facciamo diventare questa cosa dei commenti divertenti così almeno poi andate sotto leggete i commenti leggete tutte le stupidaggini che avete scritto vi ricordo ovviamente che scrivere un commento sotto a questo video o scriverne 5000 è la stessa cosa tanto le probabilità di vincere poi quando sorteggerò nella live che farò il 3 gennaio alle 11 e 30 estrarò uno a caso ma non c'entra se commentate per 6 milioni di volte non vi preoccupate ma passiamo all'altra parte che quella un pochettino più particolare cioè il secondo invece riguarda queste cuffie qua della v moda comunque sempre by roland questo giveaway non sarà su youtube come quello precedente ma sarà su instagram qui sotto in descrizione troverete il link che vi riporta al post di queste cuffie per partecipare dovete fare quattro cose per prima cosa dovete mettere mi piace al post cioè alla foto di queste cuffie postate da me per seconda cosa dovrete seguirmi sul mio profilo instagram per terza cosa dovrete seguire anche roland italia quindi potete cercare roland italia e andarla a seguire o comunque sia nel post sia in descrizione a questo video vi lascerò il link per andare sul profilo instagram di roland e seguirli quarto passo sarà quello sempre sul post di queste cuffie di lasciare un commento dove andate a taggare almeno due vostri amici batteristi quindi commentate quello che volete ma la cosa importante che ci siano questi due tag cioè almeno due tag potete anche metterne 100 ma almeno due tag di vostri amici batteristi non vi preoccupate comunque perché tutte le istruzioni per vincere queste cuffie ci sono qui sotto in descrizione ci sono nel post di queste cuffie quindi se non avete capito qualcosa oltre a chiedermi qui sotto nei commenti potete leggere anche bene come funziona il regolamento diciamo in descrizione a questo video e a questo post appunto se fate queste quattro cose automaticamente parteciperete all'estrazione del 3 gennaio quindi spero di essere stato abbastanza chiaro se c'è qualcosa che dovete ancora chiedermi scrivetemelo qui sotto nei commenti scrivetemi in privato su instagram su facebook dove volete state attenti mi raccomando a tutti i passaggi da fare perché è importantissimo solo facendo tutti questi passaggi che vi ho detto potrete partecipare a queste due estrazioni ovviamente ogni persona può partecipare a tutte e due le estrazioni quindi commentate qui su youtube per vincere la centralina tm2 e andate su instagram per vincere queste cuffie io basta direi che con questo la posso finire qua e vi saluto e quindi noi ci vediamo direttamente per l'estrazione vi ricordo che l'estrazione sarà il 3 gennaio alle ore 11 30 basta noi ci vediamo al prossimo video e ci vediamo l'estrazione ciao